Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Voglio tornare a parlare di una situazione che sinceramente parlando a me lascia perplesso perché continuiamo ad avere problema per quanto riguarda la situazione relativa ovviamente alla Exor perché continuiamo sempre ad avere questa sorta di enorme problema secondo me fondamentalmente palese che è quello di avere una società che sicuramente ci dà tanto aiuto da un punto di vista della copertura di debito e questa è una cosa sicuramente importante però al tempo stesso è una società che nel momento in cui deve effettivamente andare a realizzare un progetto di stampo sportivo credo che abbia delle difficoltà, ok? Quindi sono qua per riportarvi qualcosa, cioè per farvi discutere un pochino di una situazione e per darvi una mia opinione. Quindi prima vi racconto un po' di cose, così ne parliamo insieme e poi mi date una vostra opinione qualora voi volete quindi se volete mi potete dare una vostra opinione che dovete fare tre cose molto semplici l'iscrizione, il solito like e ovviamente la solita campanellina sempre delle notifiche mi raccomando questa cosa è importante perché se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano i video e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social Allora, sul fatto del debito e sul fatto degli inserimenti di liquidità io credo che tutti noi abbiamo capito che la Exor è molto molto brava nel gestirli nel senso che negli ultimi anni quando tu hai avuto un problema di quel tipo lì loro sono venuti e hanno provato a riparare la situazione quindi io non sono uno di quelli che ti dice wow, c'è un problema nella Exor di conseguenza essendoci un problema nella Exor loro non ci aiutano quando le cose vanno male ma è palese che la Exor venga dipinta come questo tipo di società anche a livello aziendale cioè una società che nel momento in cui deve darti una mano perché c'è un problema di debito perché c'è un problema di bilancio cioè te la dà poi però se tu alla Exor chiedi uno sforzo che sia relativo ovviamente al progetto allora la Exor non lo fa e quello purtroppo è una cosa da rivedere io conosco tanti tifosi uguentieni ultimamente sto parlando con molti di loro che mi dicono tu hai questo atteggiamento nei confronti della Exor che secondo me è un atteggiamento sbagliato perché tu dici che la Exor è una società che guarda la USOR da un punto di vista economico e non è così nel senso che anche in passato quando la Exor ha dovuto fare degli sforzi per la Juventus a livello calcistico li ha fatti ma io non direi perché innanzitutto anche il progetto tecnico attuale stiamo parlando di un progetto tecnico che ha bisogno di soldi che non possono essere solamente i soldi dell'inserimento di liquidità perché tu hai inserito liquidità per andare a sistemare cose economiche e siamo sempre lì e finanziari quindi anche lì quindi cose di stampo legale vogliamo chiamarli in questo modo di stampo esterno ok adesso io voglio parlare di progetto cioè della capacità della Juve di comprare giocatori all'altezza della capacità della Juve di dire io voglio tenere questo giocatore perché mi sono reso conto che quel giocatore là è un fenomeno cioè se la Exor non introduce altro e non fa uno sforzo la Juve sarà costretta a cedere tutti i migliori giocatori della Rosa perché ovviamente ovviamente dovrà comunque trovare i soldi da qualche parte non è che noi possiamo andare in giro a chiedere soldi agli altri ragazzi dobbiamo pur trovare i soldi da qualche parte l'unico modo per trovare i soldi è quello di vendere i giocatori perciò io mi scaglio e dico ma sì io sono riconoscente alla Exor mi piace la Exor eccetera eccetera quando c'è stato un problema a livello economico loro sono intervenuti ma loro non è che sono intervenuti perché ah la Juventus mi importa così tanto sono intervenuti perché se la Exor non interviene sulla Juve la Juve va a creare un problema alla Exor il motivo per cui si fanno gli inserimenti di liquidità che sono inserimenti di liquidità riferiti al lato economico e non usati per il progetto tecnico sono due cose diverse perché per cortesia non facciamo che no perché siccome ha fatto gli inserimenti di liquidità allora quello loro lo stanno aiutando sul mercato mercato e lato tecnico sono due cose differenti sono due cose che dovete vedere come due cose differenti capito non è che se io faccio l'inserimento di liquidità che mi serve per coprire i debiti poi vuol dire che quei soldi li posso andare a spendere sul mercato sono due cose diverse perciò loro fanno l'inserimento di liquidità sul mercato e aiutano la società e io sono grato per tutto questo ma non venite a parlarmi di Exor che vuole investire nella Juve perché investire nella Juve non vuol dire fare l'inserimento e ripianare i debiti quello è il minimo che tu devi fare per i soldi perché se tu non lo fai a fine anno la Exor ha un problema non è che la Exor viene da noi e ci dice guarda abbiamo deciso di fare un aumento di capitale un inserimento di liquidità di tanti soldi una parte dei soldi viene utilizzata per ripianare i debiti quindi per ripagarli i debiti per fare tutto quello che bisogna fare un'altra parte invece viene dedicata al progetto non è così cioè una parte dedicata ai debiti stop la parte del progetto la devi vedere te cioè sei te che devi cercare di vedere come devi fare chi devi prendere chi devi comprare perciò io alcune volte sono contrario a tutto questo perché la gente mi scrive e mi dice ma Matt ma tu ce l'hai proprio con la Exor ma secondo voi io ce la posso mai avere con la Exor cioè io non ce l'ho con la Exor io ce l'ho con il fatto che la Exor parli di progetto e poi non compri parli di vittorie e poi non compri parli di denaro e poi se li riprende cioè la Exor dalla Juve in dieci anni raga ha guadagnato un miliardo di euro un miliardo di euro la Exor nei dieci anni che abbiamo vinto non è che la Exor è stata lì e si è girata le cose voglio dire e ha guadagnato un miliardo di euro quindi di conseguenza non dobbiamo fare finta che la Exor dalla Juve non abbia preso niente che sia normale la Exor dalla Juve in dieci anni ha preso un miliardo di euro cioè quindi con tutto il rispetto possibile e immaginabile quando inseriscono denaro per andare poi insomma a a ripianare i debiti non lo stanno facendo perché lo stanno facendo perché gli importa diciamo di avere una società in salute ma non lo fanno perché sono interessati a noi non lo fanno perché sono interessati al nostro progetto sono interessati al fatto che tu devi essere a posto col bilancio quando sei a posto col bilancio poi loro non gliene frega più niente delle altre cose che tu dici lo vuoi capire oppure no? eppure mi sembrava che questa cosa qua fosse chiara spiegata duemila volte cioè io noto che c'è all'interno della Juventus una parte della tifoseria che crede la Exor stia lì aspettando a dire adesso facciamo l'inserimento adesso facciamo l'inserimento adesso facciamo l'inserimento lo fanno quando loro si rendono conto che c'è un problema economico quando c'è un problema economico fanno l'inserimento o finanziario dipende un problema un problema tecnico diciamo così loro intervengono e vuol dire tantissimo tantissimo perché comunque avere qualcuno alle spalle che te fa tutto questo vuol dire tantissimo però raga cioè ve lo dico sinceramente la piccola storiella che la Exor si è interessata alla Juve che la Exor voglia bene alla Juve che la Exor voglia portare la Juve chissà dove cioè sta storiella da due soldi che ve continuano a raccontare i filo Exoriani cioè è una storia veramente che non ha senso perché tu lo sai perfettamente perché hai messo quei soldi da dentro non hai messo quei soldi da dentro perché tu improvvisamente hai deciso di comprare tutto il mondo ragazzi se la Exor veramente ci tenesse alla Juve come società intesa come squadra la Exor darebbe la possibilità alla Juve di fare un inserimento di liquidità solo ed esclusivamente per il mercato dice guarda ti ho fatto un inserimento di liquidità per quanto riguarda la situazione relativa ovviamente alla parte tecnica adesso ti faccio un inserimento di liquidità dedicato alla parte del mercato quindi adesso andiamo a discutere di soldi veri cioè di mercato di gente che può arrivare invece no mercato dove devi vedere te quello dove devi vedere te quell'altro dove te io ci metto i soldi perché ti aiuto con i debiti grande cosa ti ripeto grandissima cosa è una cosa che ti aiuta pure a te cioè non è che sta a mettere i soldi alla fine dell'anno se tu non metti quei soldi tu li perdi quei soldi ecco perché li mettono capisci capite perché mettono i soldi oppure credete che mettano i soldi perché ci stiamo simpatici noi noi li stiamo di noi la Exor di come Juve non gliene frega non gliene è mai fregato niente gliene frega se va bene se va male tra te e te perché se per caso le cose vanno male stati ben tranquillo che io intervenire a dare una mano per quanto riguarda questioni di campo ti sto dicendo io non intervengo perché per me sei solo una società come le altre questo è ma perché dobbiamo negare l'evidenza perché dobbiamo far finta di niente ma perché dobbiamo sempre negare l'evidenza dobbiamo far finta di niente mi sembra di parlare coi cosi coi ciccio e comment perché dobbiamo fare finta di niente dobbiamo dire che è tutto a posto ma che c'è sta a posto perdonatemi ma non sta a posto niente ma non sta a posto niente ma cosa sta a posto quindi fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate voi di questa situazione perché mi sento demoralizzato me credete non lo so ciao ragazzi mi raccomando grazie a tutti